Ancora una volta il buon Saviano non perde occasione per stare zitto. In questo caso ha deciso di intervenire sul caso dello stupro che c'è stato, della violenza che c'è stata in campagna qualche giorno fa. Immediatamente noi come Lega abbiamo detto che la violenza è da condannare, la violenza sessuale è da condannare in qualsiasi sua forma ed è da condannare con il più grosso delle pene, cioè la castrazione chimica. Il sottoscritto ha presentato una proposta di legge che giace in Senato e questa maggioranza del Partito Democratico non ha nessuna intenzione di trattarla perché ancora una volta si parla nei talk show, ci si indigna, ma poi quando c'è qualcuno che vuole fare delle proposte concrete non si arriva a conclusione. Il buon Saviano anche lui fa parte di quell'esercito di bla 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 dei talk show e dei social network e di conseguenza chiediamo al buon Saviano che se ne sta in America, che non sta in Italia in mezzo alle persone normali che subiscono i reati e che subiscono tutta questa violenza, chiediamo al buon Saviano di stare in silenzio. L'ultima uscita del Saviano mi fa pensare che il nostro amico voglia vincere a questo punto il Nobel per la comicità.